I centri vaccinali si riorganizzano dopo i rifiuti ad AstraZeneca. Alla Caritas di Pesaro si vaccinano i cittadini senza fissa dimora. Le farmacie comunali azzerano l'IVA sui prodotti di igiene femminile. Di gestore in arrivo di battito acceso a padiglione. Buona serata e benvenuti al nostro telegiornale di oggi martedì 15 giugno. Telegiornale che apriamo occupandoci della situazione sanitaria nella nostra provincia e soprattutto di come i centri vaccinali della nostra provincia appunto si stanno riorganizzando alla luce dei sempre più frequenti rifiuti dei cittadini a vaccinarsi con il siero AstraZeneca. Con 20 casi settimanali al contagio da Covid-19 ogni 100.000 abitanti, le marche volano senza grossi intralci verso l'ingresso in zona bianca dal lunedì 21 giugno. Un allentamento di restrizioni che è stato guadagnato su numeri da Covid-19 in picchiata che si intersecano a numeri crescenti di vaccinati. Oltre metà dei marchigiani è stata immunizzata con almeno una dose. Sempre di più sono però quelli decisi a cambiare siero per la seconda inoculazione. E' infatti diventata, prassi sempre più frequente, il rifiuto al siero AstraZeneca per i vaccinati in prima dose con il siero anglo-svedese. Aspettando i chiarimenti sanitari nella prossima conferenza della regione di domani, i centri vaccinali allora ricalibrano e riprenotano le vaccinazioni di conseguenza, soprattutto quelle degli over 60. Non mancano le difficoltà logistiche e organizzative, ma ora le nuove forniture di Pfizer e Moderna in arrivo amplieranno la possibilità di completare i cicli vaccinali. La situazione per lo shift, quindi la vaccinazione eterologa AstraZeneca o con Pfizer o con Moderna per seconda dose di coloro che hanno sotto i 60 anni è una disposizione del Ministero. Quindi noi ci atteniamo scrupolosamente alle tutte le indicazioni che arrivano. Considerate che io sabato mattina avevo il punto vaccinale di Gradara che doveva fare le seconde dosi di AstraZeneca agli insegnanti, per esempio, perché mi avevano differito una quota a parte per far prima. Io ho dovuto nella sera andare a prendere le dosi di Pfizer e portarle su in urgenza in modo tale che il giorno sabato ci avessero tutto. Quindi noi siamo organizzati, so che domani arriverà un grosso quantitativo di Pfizer in Moderna, quindi ci siamo. Però certo che le persone possono essere un po' disorientate perché prima in un modo, poi in un altro, poi cambiano sempre queste fasce d'età. Però è normale, nel senso che questa è una vaccinazione, oltretutto in emergenza, è una vaccinazione in pandemia, sono vaccini nuovi, ma soprattutto c'è una particolare attenzione per il rischio-beneficio. Quindi ogni volta che il rischio della vaccinazione è leggermente superiore al rischio della popolazione normale, cambiano le indicazioni. Ed è normale, questa è farmacovigilanza, questo è tutto un sistema che Italia ha molto forte. E restando in tema di vaccini, oggi anche la mensa della Caritas diocesana si è eccezionalmente trasformata in centro di vaccinazione per 38 cittadini senza fissa dimora. Vediamo. La campagna di vaccinazione è partita sul territorio a febbraio, cominciando da anziani e categorie fragile a livello di patologie. Oggi 15 giugno una tappa importante, quella della vaccinazione alle categorie cosiddette socialmente fragili. Oggi, qui nei locali della mensa della Caritas diocesana, in via del teatro, nel centro storico di Pesaro, vengono vaccinate 38 persone senza fissa dimora in un accordo di collaborazione tra Caritas diocesana e Asur di Pesaro. Oggi siamo qui perché la salute è veramente un diritto universale, finalmente lo possiamo affermare con forza, perché oggi qui in Caritas vengono vaccinate le persone senza fissa dimora, anche quelle che sono un po' invisibili alle istituzioni. E questo grazie alla grande collaborazione con l'Asur, con la sua direttrice Elisabetta Esposto, che ha mostrato una sensibilità particolare a questo tema e grazie a lei siamo riusciti a trovare la strada per tutelare la salute anche dei più deboli. 38 le persone vaccinate? Sì, sono 38, sono in parte le persone che abitano nelle nostre strutture d'accoglienza e altre che purtroppo in questo momento sono in alloggi precari o addirittura per strada. Il fatto di riuscire a vaccinare queste persone è anche un punto molto positivo perché ci permette anche di aumentare la capienza delle nostre strutture d'accoglienza. Avendo persone vaccinate riusciamo a garantire più posti letto e questo anche per la città intera è un punto di arrivo molto importante. Sono felice di questo giorno perché finalmente riusciamo a dare un ulteriore segnale di vicinanza, di accompagnamento, di compassione e di tenerezza sono un po' le parole del Papa. Più di una volta il Papa ci ha sollecitato sul tema di non lasciare fuori nessuno da questo cammino anche legato alla pandemia e quindi tutti i vaccini e noi diciamo ecco proprio anche con la massima collaborazione, sensibilità e attenzione anche diciamo ecco dell'Asur locale e questo per noi è un grande segno di soddisfazione innanzitutto ma anche di speranza sulla capacità diciamo ecco di crescere sempre in una logica di realizzare una comunità dove nessuno è escluso, dove nessuno si sente marginato, dove nessuno si senta scartato e questo diciamo ecco si muove nel clima della costruzione di una vera fraternità umana e universale per tutti. Ad essere vaccinati ospiti di Casa Tabanelli, Casa Fra Arduino, Casa Mariolina di Città della Gioia ma anche semplici frequentatori qui della mensa della Caritas di Ocesana persone che sono state vaccinate con Pfizer ossiero Johnson & Johnson. Io oggi sono molto contenta di essere qua a vaccinare perché insomma è anche da un mesetto che volevo provare intanto abbiamo fatto questo lavoro con Caritas che ringrazio quello di trovare e cercare tutte le persone che sono senza fissa dimora che comunque sono presi in carico da Caritas ma anche da altre associazioni quindi un lavoro un po' impegnativo perché queste persone vanno trovate vanno anche un po' informate e convinte loro non sono persone che hanno social o comunque leggono giornali quindi è più difficile praticamente cercarli e trovarli quindi siamo riusciti, hanno mandato l'elenco le persone hanno codice fiscale ma in molti casi magari non vivono qua o sono residenti da altre parti, in altri paesi del mondo ma il sistema poste adesso riesce a far preaccettare queste persone quindi io appena ci sei riusciti sono venuta e abbiamo organizzato Ed ora gli aggiornamenti per quanto riguarda i dati del coronavirus sul nostro territorio resta ridotto all'1,4% il rapporto fra casi positivi al Covid-19 e i tamponi testati nella regione Marche nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.330 tamponi di cui 1.113 nel percorso nuove diagnosi i casi positivi sono 16 di cui appena 2 nella provincia di Pesaro Urbino negli ospedali marchigiani sono 60 le persone ricoverate cioè uno meno di ieri, 9 dei quali in terapia intensiva dato che resta invariato rispetto a ieri non si sono registrati decessi appunto nella giornata di ieri Da oggi e fino alla fine del 2021 le farmacie comunali di Pesaro e Gabice Mare applicheranno uno sconto pari all'imposta dell'IVA su assorbenti, coppette e ogni prodotto relativo al contenimento del ciclo mestruale è il risultato di una battaglia portata avanti da alcuni consiglieri comunali che ascoltiamo in queste prossime interviste La discriminazione passa attraverso delle azioni quotidiane e noi come amministrazione, appunto come consiglio comunale siamo felici di poterci opporre a questa discriminazione La tassa sugli assorbenti femminili è la prova di una discriminazione quotidiana che le donne assumono quasi come se fosse scontata ma lo sconto invece avviene in un'altra maniera Come amministrazione abbiamo deciso di azzerare grazie all'attività di Aspes come farmacie comunali la tassa del 22% sugli assorbenti questo non è soltanto appunto una scontistica economica è un punto di parità di genere le battaglie di civiltà questa amministrazione le ha sempre combattute si è sempre messe in prima linea per essere al fianco delle donne non solo nelle battaglie di parità di genere non potevamo sottrarci a questa che è una campagna nazionale sono tantissimi comuni e le amministrazioni in Italia che si sono già attivate per azzerare la tassa del 22% sugli assorbenti e noi ci uniamo in questa campagna sperando che il governo al più presto porti a termine l'iter legislativo fermo ormai da mesi se non anni appunto su questo argomento ci auspichiamo che il governo ci ascolti che la tassa sugli assorbenti e non solo venga zerata e che finalmente il ciclo venga non più considerato un lusso perché assicuro che non lo è il suo impulso dei consigli comunali di Pesaro anche di Gabice Mare Aspes con le farmacie comunali che gestisce sul territorio ha deciso di farsi carico dell'IVA sui prodotti che servono per il contenimento del ciclo femminile e quindi su tutta una serie di prodotti che vanno dagli assorbenti ai tamponi piuttosto che alle coppette conteniciclo applicheremo uno sconto iniziale di circa il 22-24% a seconda dei prodotti è una battaglia che viene portata avanti in maniera molto seria insomma perché il ciclo come dice lo slogan della campagna che si sta portando avanti in tutta Italia non è un lusso e noi ce ne siamo fatti carico consapevoli insomma che questa cosa dovrebbe essere poi lo stato stesso penso che dovrebbe batterla proprio perché al pari di medicinali di prodotti per la salute gli stessi prodotti devono essere abbattuti scolliva a zero o al massimo il 4% Noi come conferenza nazionale delle donne PD stiamo facendo una mobilitazione a livello nazionale perché c'è una raccolta di film che è arrivata già a un milione e stanno girando tutta l'Italia proprio per sollecitare questa azione che non è solo politica ma è un'azione di tipo culturale perché se noi non andiamo diciamo ad incidere sul concetto che i beni di prima necessità soprattutto per le donne qui è una questione di politica economica di genere a cui va portata un'attenzione molto molto particolare noi ci teniamo tantissimo saranno anche a Pesaro tra agosto e settembre per accogliere proprio le firme e per portarle poi ad ottobre nella legge di bilancio Ed ora ci spostiamo a Padiglione di Tavuglia perché ieri sera si è tenuto un acceso dibattito alla presenza di più di un centinaio di persone in occasione della presentazione del digestore di smaltimento dei rifiuti organici che Green Factory di Marche Multiservizi punta a costruire nella zona compresa fra la Piana di Talacchio e il vicino comune di Tavuglia A due settimane dal progetto definitivo del digestore presentato da Green Factory nella sede pesarese di Marche Multiservizi il nuovo impianto di compostaggio di gestione anaerobica è stato oggetto di dibattito pubblico nell'impianto sportivo Palacampioni di Padiglione di Tavuglia uno dei territori assieme alla Piana di Talacchio che vivrà maggiormente da vicino la presenza del prossimo impianto dedicato allo smaltimento dei rifiuti organici più di un centinaio cittadini presenti a Padiglione molti dei quali hanno accolto la prossima realizzazione dell'impianto con toni accesi e poco concilianti Finalmente dopo un anno oltre di lockdown dove non potevamo relazionarci direttamente con i cittadini e soprattutto dopo le notizie di questo impianto che dovrebbe essere prima autorizzato dalla provincia e poi realizzato nel comune di Vallefoglia ma nella frazione di Talacchio che è molto vicina alle nostre frazioni abbiamo il dovere come amministratori di entrare in contatto con i cittadini e presentare il progetto e di cosa si parla Chiaramente per noi è un altro lavoro che dopo tanti anni di discarica poi di pianificazione e quindi di TMB avremmo volentieri evitato Questo perché? Perché gli impianti sono sicuramente una importante risorsa per i territori per dare servizio ai cittadini e i cittadini stessi devono esserne consapevoli Poi la localizzazione questo è un po' il tema è qualcosa che non ci trova sempre tutti d'accordo però parlare di impianto come fino ad ora ne è stato parlato addirittura dalle minoranze dei consigli comunali dando informazioni veramente fuori luogo e hanno spaventato molto i cittadini tutto fa paura è preoccupante e questo è chiaro ed è normale io vengo dall'esperienza di oltre 30 anni con una discarica alle spalle quindi so di cosa stiamo parlando A Padiglione Daniele Tagliolini e Mauro Tiviroli presidente e amministratore delegato di Marche Multiservizi hanno illustrato il progetto alla presenza dell'esperto di ecologia Gian Umberto Ancinelli dell'architetto Claudio Gaudenzi e del direttore tecnico di Green Factory Franco Macor ovviamente è possibile anche la critica ma credo che ci troviamo di fronte ad un impianto del tutto innocuo perché tratta esclusivamente i rifiuti degli scarti di cucina e quelli dei nostri giardini quindi non può essere dannoso né alla salute né ad altre cose dell'uomo credo che ci siano tutti i presupposti per chi ha veramente intenzione di capire che cos'è l'economia circolare e cos'è il bene delle future generazioni perché se no continuiamo ad essere solo egoisti verso noi stessi continuando a macinare e consumare quello che i nostri genitori ci hanno costruito nel dopoguerra credo che il nostro dovere sia anche quello di pensare alle nuove generazioni così come ci insegna l'Europa con la Next Generation EU e come ci insegna anche l'agenda ONU Domani 16 giugno è il primo giorno dell'esame di Stato saranno 13.946 i maturandi della Regione Marche impegnati in una formula d'esame adeguata al periodo di pandemia niente più prima seconda, terza prova e colloquio ma un unico maxi-esame orale di un'ora con ogni commissione d'esame che svolgerà al massimo 5 colloqui al giorno Guardia di Finanza Procura della Repubblica di Pesaro Urbino e Agenzia delle Entrate di Pesaro hanno siglato oggi un nuovo accordo di collaborazione per il coordinamento investigativo nei reati tributari una collaborazione che si rafforza dopo che nel triennio 2018-2020 ha già permesso di operare sequestri preventivi sul territorio per oltre 33 milioni di euro venerdì 18 giugno a Pesaro si apre il sipario su Miral Teatro d'estate seconda rassegna di teatro e musica all'anfiteatro del parco Miralfiore 30 eventi che saranno inaugurati dall'anteprima estiva di Ci vuole Orecchio Elio canta e recita Enzo Iannacci Emanuele Gambini atleta della società ASD Gabbiano nonché consigliere comunale di Pesaro ha vinto nuovamente il campionato del mondo di Laser Run che è una delle cinque discipline del pentathlon moderno in Egitto, al Cairo Gambini ha primeggiato nella categoria Master 50+, alla stessa manifestazione ha partecipato anche Stefano Tonelli della società ASD Foglia arrivando secondo nella categoria Master 60+. Ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni come sempre vi invitiamo a mandarci foto, video o semplicemente messaggi a questo numero di Whatsapp segnalazioni che sempre più purtroppo riguardano abbandone di rifiuti o come in questo caso di ritardo nel ritiro dell'immondizia che procurano quindi un accumulo di rifiuti fuori dai cassonetti La foto che vi mostriamo ora si riferisce a tal proposito a via Morgagni a Pesaro mentre altre segnalazioni continuano ad arrivare da via della libertà di bottega di Colbordolo alla quale si riferiscono appunto le immagini che state vedendo Invece da alcuni nostri telespettatori di Monbaroccio ci arrivano queste foto che ritraggono delle segnalazioni di furti in abitazione avvenuti proprio nel territorio comunale di Monbaroccio a manchi di lieve entità ma diverse case purtroppo messe a soquadro E chiudiamo il nostro telegiornale parlando di Fisioradi Center noto centro di diagnostica fisioterapica di Pesaro che sta per ampliare i suoi spazi nel quartiere di Vismara dove sono in corso d'opera i cantieri per completare una nuova struttura già durante quest'estate le nostre telecamere sono andate a documentare l'avanzamento dei lavori vediamo Lavoro in corso in via Lambro dove quest'estate verrà completata la realizzazione del nuovo Fisioradi Center poliambulatorio multifunzionale e palestra polivalente che dall'attuale struttura di via 24 Maggio aprirà ora i suoi servizi nel quartiere di Vismara Nel nuovo centro ci saranno tante cose in più ci sarà probabilmente anche questo non ci sarà solo un servizio o dei servizi in più da un punto di vista sanitario vogliamo dare una copertura si può dire a 360 gradi al paziente Un lavoro complesso e compresso in un anno con la progettazione cominciata a settembre 2020 e i cantieri partiti lo scorso mese di marzo Il centro nasce da un vecchio capannone artigianale con questa palazzina che vedete qui dietro che ospita gli uffici quindi al piano superiore della palazzina abbiamo gli uffici al piano inferiore della palazzina abbiamo invece tutta la parte diagnostica che coglierà la risonanza magnetica la raggi X la TAC la MOC e la mammografia nella parte posteriore invece quella che realmente era prima il capannone dell'artigianale andremo a collocare tutti gli uffici tutti gli ambulatori e nella parte invece nuova che abbiamo costruito che vedete laggiù in fondo lì ci vanno le vasche terapeutiche l'edificio è stato ristrutturato con tutti i criteri di adeguamento sismico e quindi ha una struttura slegata nei quattro settori e inoltre abbiamo fatto anche una grande riqualificazione energetica per cui dai pannelli fotovoltaici sulla copertura ha il cappotto di notevoli dimensioni tutto attorno all'edificio in maniera da dargli un'efficienza energetica notevole questa struttura verrà completamente rivestita con dei pannelli di lamiera stirata e verranno due grandissime insegne per l'identificazione del centro con il simbolo di fisioradi SRL tempo di consegna dei lavori direi che se tutto va bene attorno al 20-25 di luglio avremo completato l'opera tenendo presente che abbiamo incominciato il 15 di marzo facendo un'operazione di notevole importanza con fino a 30-32 persone contemporaneamente dentro il cantiere E allora davvero complimenti a Fisioradi Center e a queste aziende che crescono sempre più sul nostro territorio siamo arrivati appunto alla fine del nostro telegiornale e quindi andiamo a vedere la programmazione di questa sera su Rossini TV partiamo alle 21.15 con una nuova puntata di Acome Angels per conoscere tutte le novità del football americano locale e a seguire alle 21.30 un tavolo tematico sull'automazione industriale indetto dalla regione Marche l'osservatorio regionale sulla specializzazione intelligente e poi ancora alle 21.15 un appuntamento una nuova puntata di Spazio Web musica di qualità nel nostro territorio e allora grazie come sempre per averci seguito il prossimo appuntamento con informazione torna domani mattina in diretta TV e Facebook con Buongiorno Rossini la nostra rassegna stampa alle 7.20 buona serata a la nostra rassegna stampa Grazie.